Ciao a tutti, nuovo video! Oggi vi voglio fare il video che gira ultimamente tantissimo su YouTube quindi ho pensato di farlo anch'io che si chiama YouTube Made Me Buy It quindi YouTube me l'ha fatto comprare praticamente vi mostrerò quei prodotti che sto utilizzando in questo momento che ho comprato perché ne avevo sentito parlare appunto su YouTube quindi avevo visto recensioni di questi prodotti prima io in realtà la maggior parte dei prodotti che compro sono in qualche modo connessi con YouTube e ne ho utilizzati anche tantissimo in passato però ho deciso di mostrarvi i prodotti che sto utilizzando proprio in questo momento che vi posso mostrare appunto il primo prodotto di cui vi voglio parlare se magari vi interessa potrei fare anche un video dedicato non lo so, fatemi sapere è il prodotto di GHD per lo styling dei capelli ed è appunto la piastra allora GHD è un'azienda famosissima su YouTube ma i loro prodotti sono utilizzati anche da diversi parrucchieri che si specializza appunto in tutti questi prodotti per i capelli io da anni utilizzo la piastra da più di 10 anni questa qui la utilizzo da un paio di anni e devo dire che mi ci sto trovando benissimo ho provato tantissime piastre nella mia vita e devo dire che la differenza si vede i prodotti di GHD sono abbastanza costosi quindi sicuramente vale la pena fare un po' di ricerca prima di fare l'acquisto però io vi posso dire che secondo me le piastre, le loro piastre davvero valgono ogni centesimo speso e non mi sono mai pentita di averla comprata quindi questo è il prodotto che appunto avevo visto tantissimo recensito appunto su YouTube sia europeo che americano lo utilizzano appunto tantissime ragazze la utilizzo anch'io e vi posso dire che è un prodotto meraviglioso quindi insomma ve lo consiglio comunque poi per quanto riguarda la cura del corpo vi voglio mostrare due prodotti due scrap corpo il primo anche qui famosissimo scrap corpo rimodelante di Equilibra con sali marini del mar morto aloe vera, centella, ipocastano e edera allora questo è un prodotto che volevo comprare tantissimo tempo prima di averlo provato per la prima volta e poi mi è arrivato un enorme sample da Lara My Carly Colors, grazie che mi ha fatto appunto scoprire questo prodotto me l'ha fatto provare ecco per la prima volta e dal primo utilizzo praticamente me ne sono innamorata questo ora non lo apro perché sto utilizzando altri prodotti questa infatti è una confezione nuova allora questo è uno scrub a base di sale quindi pulisce molto bene scrubba molto bene il corpo ci sono diversi estratti che aiutano a rendere la nostra pelle più elastica più tonica c'è anche una parte oleosa quindi vi lascia la pelle molto idratata dopo averlo utilizzato io la utilizzo soprattutto quando faccio il bagno nella vasca e la pelle risulta molto idratata e molto molto tonica dopo averlo utilizzato quindi è un scrub davvero ottimo e lo scrub invece che sto utilizzando, che sto finendo in questo periodo è un altro famosissimo scrub corpo al caffè di Natura Equa allora piace tantissime tantissime persone a me no, non mi fa impazzire ve ne ho parlato in dettaglio nel video dove vi ho fatto paragone con quello sempre al caffè di Nakomi allora per tutti gli amanti del caffè sicuramente la profumazione è ottima a me non fa impazzire ma è una cosa molto soggettiva però sinceramente non mi fa neanche impazzire per quanto riguarda l'effetto scrubbante sulla mia pelle e non ho visto nessun risultato ecco per quanto riguarda la pelle magari più elastica perché non parlo neanche del discorso cellulite perché è ovvio che uno scrub non può fare miracoli ecco però ripeto per me rimane un prodotto gni quindi questo qua sicuramente non lo ricomprerò poi prima di passare ai prodotti make up perché ne ho tantissimi vi voglio mostrare un prodotto che insomma entra in un'altra categoria di cui vi ho parlato soltanto una volta nel video haul ed è questa coppetta masteruale di Natoo io ce l'ho nella misura 1 allora non vi ho più parlato di questo prodotto perché sinceramente non ho ancora un'idea abbastanza chiara se mi piace o meno devo dire che il primo mese di utilizzo è stato abbastanza tragico però vi ricordavo tutti i vostri commenti sotto il video haul di continuare a provare ad utilizzarla perché insomma so che tante tante di voi si stanno trovando benissimo per me non lo so devo dire che non sono riuscita ancora a capire se mi piace magari devo ancora imparare ad utilizzarla meglio non lo so per ora diciamo non mi sta convincendo però probabilmente è un prodotto che va utilizzato e con ogni utilizzo insomma la situazione migliora non lo so vedremo ok e ora passiamo ai prodotti make up comincio con tre palette allora una delle mie palette preferite in assoluto che ho comprato grazie a youtube appunto e grazie a tutti gli swatches che ho visto è la palette di Urban Decay Naked 2 della linea Basics e questa è una palette perfetta da tenere in casa ma anche da portarla nei viaggi perché è leggerissima e ci sono tutti gli ombretti che vi possono servire per fare un trucco da giorno ma anche da sera perché utilizzando i colori più scuri si può fare anche un leggero smoky i colori mi piacciono tantissimo soprattutto quelli più chiari mi piace il fatto che il colore più scuro non sia proprio un nero ma è un nero con sottotono grigio direi è perfetto appunto per lo stile del make up che piace a me, su di me gli ombretti sono pigmentati si sfumano benissimo sono abbastanza polverosi però a me non dà fastidio la palette all'interno ha anche lo specchietto che è molto comodo e quindi sì questa qui è sicuramente è stato un ottimo acquisto ecco un altro ottimo acquisto che ho acquistato grazie a YouTube grazie a tutti i video che ho visto ma soprattutto al video di Sonia Flower 82 è questa palette di Wet n Wild che si chiama Comfort Zone i colori sono bellissimi io la utilizzo soprattutto nel periodo autunnale ma ho deciso di ripescarla anche ora in queste settimane e di ricominciare ad utilizzarla perché è davvero troppo bella mi piacciono tantissimo i colori chiari mi piace questo colore qua che è un duo chrome che è praticamente sfumato sulla parpebra diventa quasi borgogna con dei riflessi celesti bellissimo davvero sono tutti prodotti shimmer alcuni due mi sembra con dei brillantini altri sono shimmer quindi sì magari questa è una palette che andrebbe abbinata ad almeno un ombretto diciamo opaco da mettere per esempio nella piega però sono davvero troppo troppo belli poi questa palette costa intorno ai 7 euro insomma è un super super acquisto e mettiamola qui e poi l'ultima palette di cui vi voglio parlare è una palette che ho creato io con gli ombretti scelti ed è ovviamente la palette di Nabla Nabla è uno penso dei brand più famosi per quanto riguarda gli ombretti almeno su youtube italiano allora io devo dire che all'inizio utilizzavo questi ombretti praticamente tutti i giorni ora li ho messi un po' da parte la devo anche infatti pulire perché insomma non la utilizzo da mesi come vedete insomma andrebbe sistemata come palette ma anche perché ci sono 3 ombretti fra i 6 che ho che probabilmente regalerò a qualcuno perché non mi convincono allora gli ombretti che mi piacciono da morire sono Entropy che è questo qui Fossil che io utilizzo nella piega e poi Madre Pella che è un colore fantastico molto particolare e quelli che non mi convincono sono questi in mezzo più quello diciamo più argento e quello più dorato perché sono non lo so sono i colori magari un po' troppo particolari per me secondo me non mi stanno poi neanche molto bene e poi l'ombretto che mi faceva impazzire per quanto riguarda la colorazione questo qua che si chiama Lazy Days ma che purtroppo all'interno ho tantissimi brillantini dorati che fanno fallout e li ritrovo tutti sulle guance è un effetto bruttissimo e non lo utilizzo mai praticamente insomma gli ombretti Nabla li conoscerete tutti e in generale sono assolutamente validi e ve li consiglio poi vi voglio parlare di 3 mascara di cui mi avete già sentito parlare qui sul canale tutti e 3 li ho presi grazie agli video su youtube uno che assolutamente non mi è piaciuto probabilmente sono l'unica persona che appunto ha detto che questo prodotto non mi piace ed è il mascara di Kiko che si chiama Maxi Mode questa è la sua confezione esterna e questo è l'interno tante ragazze lo adorano a me non piace per niente non rende le mie ciglia più lunghe non le separa anzi le incolla e quindi questo qua assolutamente no due invece prodotti che ho deciso di acquistare da Sephora due mascara sono questi Too Faced Better Than Sex and They Real di The Benefit sono due mascara buoni anche se diciamo per le esigenze delle mie ciglia e per l'effetto che a me piace decisamente preferisco questo di Benefit comunque vi voglio consigliare queste mini talie che appunto trovate da Sephora perché sono un ottimo modo per provare il prodotto per vedere se anche voi siete indecise fra i due per decidere appunto quale scegliere anche se vi dico la verità probabilmente una volta finiti invece di andare a comprare la versione full size andrò a ricomprare la versione travel perché è davvero comodissima io che insomma viaggio molto spesso più piccoli sono i prodotti meglio è per me quindi queste qua devo dire che sono un'ottima soluzione e poi gli ultimi prodotti di cui vi voglio parlare che ho comprato grazie a Youtube sono i pennelli io fino a pochi mesi fa utilizzavo praticamente tutti i pennelli di Hakuro che è una marca polacca che fa ottimi prodotti ottimi pennelli che hanno un rapporto quantità quantità sì qualità prezzo davvero davvero fantastico però appunto negli ultimi mesi ho deciso di cambiare e di provare qualche novità e quindi ho acquistato tre pennelli di Zoeva di cui vi ho parlato nel video che riguardava le new entry nella mia make up bag comunque velocemente sono numero 222 che è questo piatto abbastanza grande numero 221 che è un pennello da sfumatura piuttosto largo e piuttosto ampio poi 227 il pennello da sfumatura però diciamo più piatto sono ottimi morbidissimi sfumano molto bene gli ombretti e mi ci trovo benissimo li ho presi sul sito di Douglas con lo sconto di 25% quindi insomma ve li consiglio e l'ultimo prodotto che avevo acquistato è questo pennello di Real Techniques Real Techniques è probabilmente il brand più famoso su youtube per quanto riguarda appunto i pennelli questo qua si chiama setting brush ed è fatto così questo dovrebbe essere praticamente un pennello multiuso perché so che alcune persone lo utilizzano per applicare la cipria magari nella zona T o nella zona con tornocchi c'è chi lo utilizza per il bronzer c'è chi lo utilizza per l'illuminante io devo dire che non lo so per ora non sono riuscita ancora a capire quale sia diciamo l'utilizzo che mi piacerebbe di più ci sono dei periodi quando lo utilizzo appunto per fissare magari il correttore per mettere un po' di bronzer e poi ci sono altre settimane quando non lo utilizzo proprio ecco quindi questo qua per ora rimane ancora un prodotto Nima perché solo sono io che devo capire come utilizzarlo al meglio ecco però è sicuramente un pennello che è ben fatto le setole sono morbidissime quindi ecco anche io vi confermo comunque che come diciamo la qualità è assolutamente un pennello molto molto valido allora questi sono i prodotti di cui vi volevo parlare sarei curiosa di sapere quali sono le vostre chicche magari che avete scoperto grazie a youtube lasciatemi i vostri commenti sotto io vi ringrazio vi saluto e ci vediamo presto ciao